La foto che ti ho mostrato mostra in maniera diciamo abbastanza evidente che su quel gancio lì da KPO il piede d'appoggio è stato rotato. Questa è la dimostrazione che negli sport a combattimento dire è sbagliato senza andare nel caso specifico, quindi fare un'affermazione generica, nel dire che è sbagliato, quello è l'errore. Perché le variabili sono tantissime, gli atleti ognuno ha delle caratteristiche, quindi c'è chi lo ruota di più, chi non lo ruota, quindi non si può generalizzare. Apprezzo però il commento che hai fatto e anzi ti ringrazio per la nota. I commenti a mio avviso sono sempre costruttivi perché ci danno delle risposte e ci fanno capire se tante volte stiamo sbagliando qualcosa. Comunque sia questo il mio profilo sono sempre i miei punti di vista in base alla mia esperienza. Ovviamente la verità non ce l'ha nessuno.